Sicuramente è il personaggio che affascina, è il personaggio che vince, è l'uomo di fronte alla scommessa di se stesso, è l'uomo che non si è reso, è l'uomo che vuole indagare. In Dante non riesce a tornare a casa, invece Omero lo fa rientrare e vince il concetto di famiglia, il concetto di patria. Però se posso dire qualcosa, in Dante come in Omero, quanto c'è di contemporaneo nel personaggio di Odisseo? Quanto c'è di vero, quanto c'è di oggi, quanto c'è di un naufragio e della responsabilità che tutti noi abbiamo rispetto a chi è naufrago? Odisseo arriva nella terra dei Feaci e lì viene accolto dal re dei Feaci, il quale prima ancora di chiedere chi tu sia lo accoglie e lo rifocilla. Poi di fronte all'implorazione di Odisseo di tornare a casa, convocata la corte, Alcino dice un naufrago va accolto e soccorso sempre per legge umana e divina. Ora ditemi se l'Odissea non è stata scritta questa mattina, insomma. Cioè è un testo che è così contemporaneo, così vivo, così vero, che indaga così nella nostra quotidianità che forse dovremmo rileggere più spesso. Chissà, i greci si erano già posti il problema dei naufraghi, il problema dell'accoglienza e forse avevano anche dato una soluzione.